Ciao ragazzi, sono Luisa e oggi vi presenterò un nuovo video la prima parte di Anima Crossing ok, iniziamo, ciao ciao, commenterò alla fine del video, ciao ciao e ora, alzati io e ora iniziamo una nuova avventura con Anima Crossing come immaginiamo, era sicuro che ci possiamo mai incontrarsi più ad ora dobbiamo iniziare una meravigliosa avventura se avete abitato in Anima Crossing Road, potrete bloccare qui buonissima nuova, mi dò che segnare da dios e non siamo più alti sì, certo dottronde, ti avete felici in una nuova città nuova e naturalmente in modo migliorare le spalle e le battine nel zero a proposito, devo ancora sistemare un paio di cosette, aspetta un attimo preparazione dei dottici sabbaticus non toccare il pesante power o il pesante grazie per avermi aspettato non c'è più nemmeno un secondo da vedere vieni, cerco mai nemmeno un po', andiamo ora ci troveremo a vinta bus che ci porterà più ben vero si se non ci sei mai diretti ma insomma la tua nuova amita dunque, ehm ah e si ti volevo chiedere come ti chiami no, è qui vedo Sì, sì, è un nome forte e simpatico allo stesso tempo, perfetto per un ragazzo come te Quindi sei per traslocare Anania per iniziare una nuova vita? Sei una persona fortunata, ti invidio molto, sai? Vedrai che Anania ti piacerà, è una città bellissima, non stai più nella pelle Eh già, sì sì, senti, sai già dove andrai ad abitare? Oh, non è ancora un posto, beh, hai fortuna Pare che Anania ci sia un boom nel mercato immobiliare, le cose spuntano come funghi Dunque, comunque, se stai cercando casa, avrai portato dei soldi con te, giusto? Cosa? Su serio? Eh, beh, sì, sono sicuro che tutto andrà nel miglior dei modi E comunque, per dubbi o domande, puoi sempre chiedere al personale del municipio Ecco, guarda qua La mappa è di Anania, prendila e per te Quando arrivi in città, per tutta questa mappa per trovare più in fretta il municipio Prostima fermata, nonno, prossima fermata, nonno Oh, e, stiamo per rimanere in Anania Bene, allora, spero che ci incontriamo di nuovo E, stiamo per rimanere in Anania Ciao, ciao 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 ora e la prima appunto che il comando vive sullo schermo e se le c'è una cosa dal menù canale ok, ora diamo a tutti qui qui Oh, sei Zack, il ragazzo che è appena trasformato qui? Benvenuto in Agna, mi chiamo Pelli e lavoro qui al municipio Bene, allora, lascia che ti mostri dove ti trova la tua nuova casa È proprio qui Devo darmi da fare con i documenti per la tua nuova casa Nel frattempo, perché non segui la mappa e per dare un'occhiata all'interno della tua futura abitazione Una volta lo giù, immagino che incontrerai l'attuale proprietario, come? Devalare con lui per quanto riguarda il pagamento della casa Oh, sai come aprire la mappa della casa alla mappa Oh, ottimo Bene, vai allora E siamo da un unicidio Eccolo qui Toccellino Quando vedete il Szzerino cosa era Vedete scegliere, vediamo i posti Vedete, sono una macchina Fatissime Mi ricordo che in Animal Crossing doubles Scegliere la Cioè, la desertificazione Che calda il to сюimento del hier funk e tu sei appena arrivato vero hai fatto bene a venire subito da me a presentarti io sono pinguaio tu sei la mio amico hai evita farcile qui a noi se invece ti metti conto di me beh non ti sovviene comunque stai dicendo che c'è la disertificazione mi consiglio di creare disertificazioni comunque ecco la casa ora andiamo dentro la nostra casa ecco qui questa è la nostra nuova casa dove c'è una candela uno scatulone e una radio è un parato è un tappeto diversi è un tappeto diversi oh ciao tu devi essere zack si si ho sentito molto parlare di te benvenuto a nonna mi chiamo domenuc e ho un negozio qui in zitto mi aspetto che tu diventi il mio cliente sai ok oh allora com'è la casa ti piace molto vero? certo bene bene così intenti comprare questa cosa va bene è fatta d'ora in poi questa sarà la tua casa zack ehm pensa allo stereo lì dentro come un regalo di benvenuto da parte mia tanto non lo vendevo andiamo un po' zack hai visto l'attico? ogni volta che smetti di giocare a nonna e sicurati di andare a draiarti sull'alto dell'attico forse ero capace di ricordare tutte le cose che hai fatto durante il giorno sai ricordo che se non fai come ti ho detto sarà come se non avessi fatto nulla in quel giorno quindi non dimenticartelo ma io mi chiedi bene non c'è altro che devo dirti sulla cosa ora quindi ora puoi farmi due domande se ne hai vuoi che ti ripeto tutto o mai hai scuggito qualcosa? oh grazie si si è fiuto per gli affari quindi dobbiamo decidere tutti i termini del pagamento allora si c'è il prezzo del terreno quello del balzo, le tasse, le sovra tasse, le sottotasse e altre spese che fare il prezzo totale per la casa è di 19.800 si? ok oh mi fa piacere sentito si si va proprio bene vorrei che tu pagassi tramite bonifico se non ti dispiace ti puoi fare i dettagli ti fare i dettagli più avanti beh Jack gli affari sono affari no dovrai ripagare tutto anche se ci vorrà del tempo e dimmi un po Jack come pensi di guagnare a vivere? lo sai già fine l'astronto è un affari dove fustare i tai e si fustare i tenni fine prima parte di anima costume tra poco la seconda parte ciao votate commentate iscrivetevi